Oggi celebriamo la Santa Famiglia, una famiglia piena di fede e donata al mistero e diamo il benvenuto a padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a te, Anna Maria, a tutte le nostre amiche e ai nostri amici. Grazie padre Ernesto. Dicevamo una famiglia che si può dire identica alle nostre oggi? Assolutamente no forse. Ma è il modello per tutte le famiglie. Io direi che la Santa Famiglia di Nazareth è un modello duplice, è un modello per tutti quelli che sono sposati ma anche per tutti quelli che hanno consacrato la loro vita al servizio. Ma c'è anche una terza cosa da ricordare. Maria, Giuseppe e Gesù vanno ricordati sempre insieme. Sono molto belle quelle statue, quei dipinti in cui tutti e tre sono una sola cosa perché è la famiglia di Dio sulla terra. Quindi è qualcosa di incredibile. Ecco perché oggi, dato che siamo nel ciclo A ormai, è quasi alla fine dell'anno civile, questo ciclo A ci tratteggia un itinerario nelle letture, partendo proprio dal libro del Siracide, dove si parla di chi teme il Signore e onora i genitori, riprendendo quello che è il comandamento dell'Esodo. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dai il Signore tuo Dio. Una parola, noi la chiamiamo comandamento, importante del decalogo perché collega le tre parole che riguardano Dio e le altre sei che riguardano i rapporti con gli uomini. Quindi è fondamentale. Onorare il padre e la madre significa ricordarsi dei tre comandamenti verso Dio, riallacciati verso gli uomini. Questo comandamento è una sorta di cerniera. o per me è di immaginarla, questa parola sul padre e sulla madre ha la stessa funzione del bordo di un libro. Ecco io lo prendo un libro, un libro quello delle due tavole della legge, poi questo comandamento è come all'effetto del bordo, tenere insieme esattamente i comandamenti verso Dio e i comandamenti verso il prossimo. Perché si tratta di restituire ai genitori quanto fanno per i figli e hanno fatto. Quindi in un certo senso c'è anche una promessa. L'osservanza di questa parola determina una lunga vita non solo alla famiglia, ma alla famiglia delle famiglie che è la comunità. Ecco perché il padre e la madre sono i primi catechisti dei figli, insegnano i figli a leggere sul pentateuco, insegnano il rispetto verso Dio, verso gli uomini, insegnano loro le preghiere. Io direi che oggi questo quadro, questa icona meravigliosa di Maria Giuseppe e Gesù Bambino ci ricorda che è in famiglia che nasce l'uomo, è in famiglia che deve crescere il cittadino, è in famiglia che deve crescere anche il cristiano. Quindi è importante tutto questo. La famiglia è il luogo davvero dove ci si forma. Quindi è importante a mio avviso ricordarlo tutto questo. La fede, le virtù umane sono il patrimonio che la famiglia può consegnare. Ecco perché Matteo nella pagina che ci dà oggi, una pagina famosa, ci mette anche davanti le traversie di questa famiglia di Nazareth, che è costretta a fuggire in Egitto perché è perseguitata. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino condividono i dolori e le difficoltà di tanti perseguitati della storia. È una famiglia di migranti. Ricordiamolo questa espressione. Noi usiamo i migranti, i migranti. In realtà dovremmo parlare sempre, in un certo senso dovremmo parlare della migrazione. Tutti noi siamo figli di una migrazione. Siamo nati tutti in Africa e poi siamo migrati nei vari continenti. 60 mila anni fa eravamo di pelle nera con gli occhi chiari. La stessa Bibbia è una biblioteca scritta da migranti e per i migranti. Ecco, Gesù, Giuseppe e Maria sono costretti a scendere in Egitto. Ma dietro tutta questa pagina Matteo ci fa vedere la provvidenza di Dio. Il piccolo Gesù, fuggendo in Egitto e poi ritornando a Nazareth, in un certo senso compie il viaggio che ha fatto Israele. Quindi è interessante. Il vero Israele che viene dall'Egitto è Gesù. Matteo lo suggerisce usando proprio quel termine in greco, nezzer, nazareno. Ma in realtà sotto c'è il germoglio, Gesù è il germoglio del nuovo popolo di Dio. Lui è il liberatore venuto nell'umiltà e nella povertà più assoluta. Quindi è interessante. Invece di tornare in Giudea, Giuseppe poi preferisce, dopo che è morto Erode, di fuggiarsi in Galilea. Anche questo è il compimento di una profezia, una delle profezie più misteriose. Perché effettivamente Nazareth è il luogo mai citato nell'Antico Testamento, ma sarà il luogo dell'infanzia, dell'adolescenza, ma anche della maturità di Gesù. Tanti anni, più di trenta passati nel silenzio di Nazareth. Perché la storia del Natale, del Dio che vive con noi, è la storia calata nel feriale. Noi abbiamo bisogno purtroppo di creare alberi di sei, sette metri, luci luminescenti, città piene di palloncini. Invece in realtà il Natale è di una semplicità enorme. Accorgersi della luce del sole al mattino, accorgersi del sorriso di un bambino, il martello che inchioda la falegname, il ritmo di una vita che nella semplicità si snoda. Nazareth è questo. Ecco perché anche la pagina di Paolo, e Paolo aggiunge un testo meraviglioso in Colossesi, questa pagina di altissimo profilo spirituale, Paolo ci invita a rivestirci. Ecco, la dignità. Rivestirsi indica la dignità. Dobbiamo rivestirci di sentimenti di misericordia. Siamo a pochi giorni dal Natale, che anche Pasqua l'abbiamo spiegato. Sentirsi davvero, come dire, spinti da questa misericordia, dalla bontà, dall'umiltà, dalla mansuetudine, dalla pazienza. La Santa Famiglia è vista proprio come il luogo del perdono, il luogo della carità fervida, il luogo del vincolo della perfezione. Tra l'altro Maria e Giuseppe stringono tra le braccia colui che è il volto del Padre che è nei cieli, la misericordia incarnata. Ecco perché per vivere bene anche la comunità ecclesiale e quella familiare dovrebbe esserci una condizione essenziale che Paolo oggi ci dà. Paolo dice in Colossesi 3.16 la parola di Cristo dimori fra di voi con abbondanza. E qui Paolo usa un verbo in greco, enoikeo, che ricorre sempre in Paolo. Abitare dentro vuol dire che i rapporti familiari diventano così un andare verso l'altro con rispetto, umiltà. Abitare dentro significa stare dentro in quella situazione rispettando l'altro e andando verso l'altro. La famiglia, ecco la Santa Famiglia oggi ci ricorda che ogni famiglia deve essere il luogo per eccellenza dove si impara a non prevalere sull'altro, ma a crescere insieme all'altro e per l'altro, a imparare ad essere inclusivi e non esclusivi. A volte le nostre famiglie sono esclusive, non frequentare quello, non parlare con quell'altro, farla con quello, non farla con quell'altro. Noi dobbiamo imparare a crescere gli uni per gli altri. Ed è interessante anche nel racconto matteano di oggi constatare che proprio Matteo narra la vicenda di questo bambino in modo semplice. Non cede a particolari miracolistici, né vuole esaltare azioni sovrannaturali. vuole dirci che fin dall'inizio della sua vita e della sua storia Gesù mostra come la famiglia nella quale lui ha scelto di venire a nascere e a crescere è il luogo semplice in cui poter fare un itinerario di formazione completa. Anche se bisogna affrontare persecuzioni, disagi, il progetto del padre viene portato a compimento. Ecco allora l'augurio a tutte le nostre famiglie. Famiglia, tu devi essere il luogo del discernimento della volontà di Dio. Ecco perché Gesù ci insegnerà il padre nostro ed essendo padre di tutti noi, noi siamo la sua famiglia, siamo il corpo di Cristo, siamo questa santa assemblea che proprio Matteo chiama Ecclesia. Anche la Chiesa dovrebbe essere il luogo dove davvero impariamo a umanizzarci. E' l'augurio che vorrei fare davvero a tutti quanti noi oggi. E visto che Nazareth ci insegna che Dio viene ad abitare in casa, nella quotidianità possiamo fare un'esperienza mistica e crescere nella conoscenza di Dio. Grazie padre Ernesto. Non sono le cose eccezionali che ci fanno vedere l'incredibile, ma è guardare in un modo contemplativo le cose. La contemplazione è guardare le cose con gli occhi di Dio. Un bambino guarda un filo d'erba e guarda un fiore e si incanta. Gli adulti hanno troppe occupazioni da fare, troppa fretta. Noi dobbiamo ritornare, ecco, che la parola di Dio dimori dentro di voi, nelle vostre famiglie, perché è la parola che è Cristo stesso che ci illumina e ci dà il suo spirito, che ci aiuta a discernere e a gustare la vita. Sì, perché la fede cristiana vuole farci gustare la vita nella volontà del Padre. Impariamo a stupirci. Grazie padre Ernesto anche per oggi e ci vediamo il prossimo anno. Eh sì, il prossimo anno civile. Impariamo a stupirci. Mi piace il tuo logo, anzi lo vorrei completare con il Salmo di oggi. Ti benedica Dio da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme ogni giorno della tua vita. Grazie di cuore da parte di tutti. Shalom. Shalom.